Fin da piccolo ho sempre avuto un debole per i trattori grandi, ma con questo è amore a prima vista. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con il monitor touchscreen si può tenere sotto controllo e modificare le funzionalità ultra tecnologiche della macchina e tanto altro. Ma sarebbe meglio guardare avanti. I fossi grandi sono un grande pericolo anche per i trattori grandi. Era il trattore dell'anno 2011 e io ero trattorista specializzato. Ora sono l'ultima ruota del carro senza la quale il carro non funziona. Nonostante la buona volontà è difficile battere le macchine in velocità. Quando non si adegua la velocità della macchina, quella dei braccianti, può capitare un macello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per me fare il contadino è anche divertente. altro che balle. La cosa più preziosa per le culture sulla sabbia... Mierda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.